E carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi, un grande investitore in dividendi non può tralasciare il fattore di crescita dei dividendi, perché se i dividendi, delle azioni o degli ETF rimangono stabili nel tempo, noi alla fine perdiamo comunque potere di acquisto. L'obiettivo ultimo e massimo sarebbe quello di avere un portafoglio che se non alimentato con nuovi risparmi produca comunque dividendi e flussi di cassa crescenti nel tempo. Per questo è importante andare a selezionare i giusti titoli. A tal proposito uno dei siti faro per quanto mi riguarda è Dividend Growth Investor. Lo seguo, mi sono iscritto alla sua newsletter, se volete potete farlo gratuitamente anche voi. Io non ho nessun interesse a farvelo fare, però è una newsletter gratuita, male secondo me non fa. Ci mostra ogni tanto quali sono le azioni americane e non solo più interessanti che hanno aumentato i dividendi. Infatti chiaramente non esiste certezza che le azioni possano aumentare i dividendi in futuro, ma se l'hanno fatto per 10, 20, 30 anni consecutivamente l'intenzione comunque è quella di proseguire su questa strada, mi avrebbe da dire. E andiamo a vedere quali sono le 10 azioni che hanno aumentato ultimamente il dividendo e che possono essere interessanti da andare magari ad analizzare. Se ce n'è qualcuna fra queste che vi piace particolarmente scrivetelo nei commenti e magari ci costruiamo un video. Allora alcuni di questi devo dire che io non li conosco perché magari sono anche a piccola capitalizzazione, però potrebbero essere spunti interessanti di studio. Allora abbiamo Choice One Financial Service con 12 anni di incrementi consecutivi dei dividendi, dividendi aumentati a un ritmo dell'8,3% negli ultimi 10 anni e attualmente a un dividend yield del 4,19%. Opera nel settore finanziario. Poi abbiamo Graco, manufatturiero, con 26 anni consecutivi di aumento dei dividendi a un ritmo del 10,8% negli ultimi 10 anni, attualmente un yield abbastanza basso dell'1,16%. Abbiamo Merck, Colosso, farmaceutico, direi che non ha bisogno di grosse presentazioni. 12 anni consecutivi di aumento dei dividendi, negli ultimi 10 anni ha aumentato a un ritmo del 5,10%, yield che sfiora il 3%. McCormick, settore degli insaporitori, settore abbastanza di incchia ma un colosso in questo settore. Pensate 38 anni consecutivi di aumento dei dividendi, negli ultimi 10 anni ha un ritmo del 9,10%, yield del 2,55%. Raymond James Financial, settore finanziario. 11 anni consecutivi dei dividendi aumentati, negli ultimi 10 anni ha aumentato a un ritmo del 14,6%, yield contenuto 1,67%, RGC, settore delle utilities, yield del 4,32%, dividendo aumentato per 20 anni consecutivi, non è affatto male. E poi passiamo anche a delle banche canadesi. Il Canada è più penalizzante per quanto riguarda la tassazione, però le banche canadesi sono storicamente molto generose infatti di dividendi. Abbiamo Canadian Imperial Bank of Commerce con 13 anni consecutivi di aumento dei dividendi e attualmente un yield del 6,42%. National Bank of Canada con un dividend yield del 4,5% e 14 anni di aumenti consecutivi dei dividendi. Royal Bank of Canada con un dividend yield del 4,5% e aumenti per 13 anni consecutivi dei dividendi. E infine, una di quelle che forse mi piace di più, Toronto Dominion Bank con 13 anni di aumenti consecutivi dei dividendi, un dividend yield del 4,93%. Questo è l'aggiornamento sulle ultime azioni che hanno aumentato i dividendi. Spero che l'aggiornamento vi sia stato utile. Fatemelo sapere con un like, iscrivetevi a investire in borsa a caccia di dividendi per non perdervi i prossimi video. Per oggi abbiamo finito, un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!